Zayman avrà l'imbarazzo della scelta. Tutti a disposizione per il match di ritorno con la Virtus Verona in programma lunedì all'Adriatico Giovanni Cornacchia, inizio ore 20 e 30. Risponderà presente anche il grande ex Filippo Pellacani. A dire il vero, oggi differenziato solo per crescenzi, lieve contusione alla caviglia, ma le condizioni del terzino non preoccupano. Assai verosimile la conferma dell'undici schierato in terra veneta. Plizzari tre pali in difesa a Caccellotti, Brosco, Messic e Milani. A centrocampo Raffia, Palmiero e Craia in attacco e la tridente, Merola, Lescano delle Monache. Tre i calciatori diffidati, Plizzari, Messic e Milani. Al prossimo giallo scatterà la squalifica. Virtus Verona, priva degli infortunati Manfrin e Vesentini e dello squalificato Tronchin, ha recuperato Lonardi, uscito giovedì scorso a fine primo tempo, per un fastidio al ginocchio. A metà campo di certo Alfredson dal primo minuto. Davanti Casarotto dovrebbe partire titolare, al fianco di Fabbro. In campionato lontano dal Gavagnin Nocini, la Virtus Verona ha conquistato ben 32 punti, 26 in casa, frutto di otto successi e altrettanti pareggi. Appena tre le sconfitte, l'ultima lo scorso 2 aprile sul campo della Prosesto. Dunque meglio fuori che dentro. Da sottolineare le vittorie esterne contro Feral Pisanò, Vicenza e Padova nel secondo turno, preliminare play-off. Non solo. Virtus uscita in battuta anche da Pordenone e Lecco, squadre che hanno terminato la stagione regolare rispettivamente al secondo e terzo posto. Gol fatti 25, subiti 11, con 13 clean sheet in 20 gare disputate in trasferta. All'Adriatico la Virtus avrà l'obbligo di vincere al novantesimo. Non sono previsti i tempi supplementari. Al Pescara, in quanto testa di serie, sarà invece sufficiente un pareggio con qualsiasi risultato. I gol segnati fuori casa non valgono doppio. Direzione affidata a Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Il portiere della Virtus Verona, Alessandro Giacomel. Sicuramente avendoci giocato la gara d'andata abbiamo capito meglio, anche se comunque avevamo già studiato il loro tipo di gioco. E poi comunque sarà una partita diversa da qualsiasi partita normale, perché comunque ne dovremmo vincere per forza. E quindi penso che si vada verso una partita simile comunque dal punto di vista tattico e tutto a quella di Padova. Chiaramente con un avversario diverso.